Say what? Aspettava che si trovava sotto la torre del baluardo Io non lo sapevo Veramente io non lo sapevo Quindi per quelli che sono veramente dei fan su questo gioco E quindi hanno esplorato bene bene The Ring Avete già trovato questo posto Ok quindi mi raccomando Dirigetevi da questa parte Buttatevi qua sopra sul cornicione Sempre più avanti E come avete visto all'inizio del video Io mi so buttato giù Su questa roccia Che si è distrutta e mi ha fatto cadere giù anche Abbiamo anche trovato uno scudo a mandorla Niente male, niente male Quindi scendiamo sempre più giù Perché lì, proprio lì Ci sta aspettando il nostro carissimo amico Il crogiolo, quel bastardo che non muore mai Per fortuna è da solo Non c'è anche suo fratello con la spada E quello è bello grosso E c'è anche le corna Eccoti Benvenuto Quindi ragazzi Una volta sconfitto Sto tizio Ci dropperà così La forma del crogiolo Le corna Quindi ragazzi Il video vi è stato utilissimo Io vi consiglio di lasciare un like Se volete l'altro tutorial La coda Iscrivetevi Attivate anche la campanellina Quindi noi ragazzi Ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao 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 Grazie a tutti.